Vasto Girardi e Trastevere al di Tella per il recupero della tredicesima d'andata. Si riparte dal 34esimo del primo tempo sul parziale di 1-0 per gli Alto Molisani. Lo scorso 8 dicembre la partita era stata sospesa per Nebbia al minuto prima indicato. Ostilità che ripartono con la direzione del signor Di Loreto della sezione di Terni. Solita impostazione offensiva casalinga per il Vasto Girardi. Al 42esimo guida dalla sinistra la tocca quel tanto che basta per Salatino, che di prima intenzione per poco non beffa il portiere Semprini. Rispondono i laziali intorno all'intervallo. Il destro di corsetti è di semplice gestione per Di Stasio. Al settimo nel corso della ripresa, lo stesso 10 del Trastevere, nuovamente pericoloso nel cuore dell'area di rigore, colpisce a metà altezza, ma la schiaccia tra le braccia del portiere. Al decimo fluida la manovra giallo-blu. Sulla catena di destra Donatelli, Alagia, calcia da limite Guadalupi. Per questione di centimetri non coglie i risultati da questo suo bel tiro. Al tredicesimo tocca a Di Stasio prendersi la scena su una punizione insidiosa dal limite di Crescenzo, una traiettoria a giro sulla quale si supera l'estremo giallo-blu. 22, il solito corsetti nelle fila degli ospiti. Va alla conclusione non troppo angolata. Di Stasio fa suo il pallone. 27, Alagia fugge sulla corsia di destra, orchestra il contropiede, cambia il versante di gioco. Dalle parti di guida, che conserva un interessante pallone in campo, prosegue il forcing negli ultimi metri dopo una serie di rimpalli. E lo stesso guida con il piattone a pescare l'angolo. Per il bis alto molisano, 2-0. Alla trentotesimo il Trastevere di mezzo allo svantaggio, con un destro al veleno non irresistibile. Ma letale di San Nipoli, la squadra di Mister Mazza rientra in partita, 5 dalla fine. Ci pensa Salatino, il minuto seguente, a riallungare le distanze, correggendo in rete a porta quasi vuota, sulla respinta di Semprini. A seguito di un tiro di guida, dopo 3 di extra time, può festeggiare il vasto Girardi, che ad una sola giornata, dalla fine della girone d'andata, grazie allo successo per 3-1 sulla vicecapolista, si porta a quota 24.